Salve a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Un po' a sorpresa, ieri Apple ha rilasciato iOS 8 Beta 4 a tutti gli sviluppatori iOS. Ovviamente ho aggiornato, l'ho installato sul mio iPod Touch di quinta generazione e oggi sono pronto per mostrarvi tutte le novità che ha introdotto questo nuovo aggiornamento. Io direi di non perdere tempo e di iniziare subito. Partiamo con la prima novità, è presente una nuova applicazione di default preinstallata in iOS chiamata Suggerimenti. Si trova di default all'interno della cartella Extra e il suo scopo è quello di guidare un utente inesperto quindi un nuovo utente che ha appena messo mano al suo primo dispositivo Apple che non è pratico di questo mondo che magari viene da Android nel sistema. a fargli fare un piccolo tour e a suggerirgli appunto alcuni tips, alcuni suggerimenti. C'è anche questa opzione che non ho ben capito a cosa serva che ci permette di mettere i mi piace ai post che ci propone Apple di suggerimento e inoltre andando nell'ultima pagina come vedete c'è scritto controlla i nuovi suggerimenti ogni settimana quindi forse è un'iniziativa che continuerà nel tempo, che cambierà nel tempo e che Apple si impegnerà a rinnovare. Inoltre come vedete abbiamo questo bottone di condivisione che ci permette di condividere un suggerimento su messaggio, mail, twitter, facebook oppure copiarlo oppure anche via airdrop e inoltre premendo il bottone in basso a sinistra avremo quest'altra visualizzazione di tutti i consigli. Quindi questa è la nuova applicazione preinstallata da iOS 8 Beta 4 attualmente non c'è modo di disinstallarla o comunque di nasconderla magari nelle restrizioni perché comunque sarebbe comodo un utente come me che usa iOS già da 3 anni non ha bisogno di questa applicazione però attualmente ce la dobbiamo ottenere, è impossibile toglierla vedremo se nelle prossime beta Apple farà qualcosa per riparare questo piccolo difetto quindi abbiamo un'applicazione in più ma anche un'applicazione in meno infatti è sparita bug reporter, l'applicazione che serviva agli utenti per segnalare i bug di iOS 8 Beta Apple l'ha rimossa quindi ora l'unico modo di segnalare i bug di iOS 8 Beta è quello di attivare l'invio dei dati di diagnosi e uso trovo questa scelta molto molto sensata quella di eliminare bug reporter perché alla fine era l'applicazione più buggata di iOS 8 passiamo ad ogni modo alla prossima novità control center questo era veramente inaspettato come vedete abbiamo una grafica completamente rinnovata che devo essere sincero all'inizio mi lasciava veramente schifato adesso guardandolo bene mi sto un pochino abituando sta cominciando a diventare guardabile però comunque preferivo molto di più la grafica vecchia che c'era su iOS 7 comunque come vedete abbiamo questa nuova grafica alcuni la adorano altri la odiano alcuni come me una specie di via di mezzo ma preferivano non cambiare erano conservatori e fatemi tra le altre cose sapere nei commenti se questa nuova grafica vi piace oppure vi fa schifo passiamo ad ogni modo alla prossima novità andiamo quindi nelle impostazioni e come vedete qui i tab sono leggermente cambiati innanzitutto non abbiamo più sfondo e luminosità perché è stata aggiunta schermo e luminosità la cosa bella è che sia su sfondo sia su schermo e luminosità è presente lo slider della luminosità non so se questo sia un bug oppure una cosa voluta comunque ad ogni modo la disposizione ora è questa abbiamo il tab sfondo che però permette sia di modificare lo sfondo sia di regolare la luminosità e poi abbiamo questo nuovo tab schermo e luminosità che permette di regolare la luminosità e di modificare il testo di iOS potremo infatti modificarne la dimensione ma questo si poteva fare già solo che prima era presente in impostazioni generali accessibilità e inoltre potremo attivare il testo in grassetto basterà attivare quest'opzione e fare un respring del dispositivo come vedete una volta fatto il respring avremo il font di iOS in grassetto questo ad alcuni può piacere ad altri no io francamente lo trovo una cosa abbastanza utile ho visto che alcuni miei amici l'hanno attivato però a me non serve quindi lo disattivo passiamo ora a una novità minore su FaceTime come vedete sono stati aggiunti questi due tab che quindi suddividono le chiamate in FaceTime video e FaceTime audio andando su impostazioni messaggi è possibile attivare un'opzione molto interessante e molto intelligente dal punto di vista privacy messaggi audio scade come tutti saprete in iOS 8 beta è possibile inviare delle note vocali tramite iMessage e con questa opzione se selezioneremo dopo due minuti qualsiasi messaggio invieremo con iMessage verrà cancellato e distrutto dopo due minuti se invece inseriremo mai il messaggio resterà nella conversazione a vita quindi è molto importante sapere questa cosa soprattutto perché di default è selezionato due minuti quindi i vostri messaggi potrebbero suicidarsi morire dopo due minuti e voi magari potreste non capire il perché quindi vi consiglio di fare un salto in questa impostazione e decidere se distruggere tutti i messaggi che mandate automaticamente dopo due minuti oppure conservarli come per esempio fa Whatsapp torniamo sempre nelle impostazioni e andiamo su generali perché è stata aggiunta questa nuova voce handoff e app consigliate prima di farvela vedere cos'è l'handoff l'handoff è quella nuova funzione di iOS 8 e di macOS 10 Yosemite che permette la continuità cioè se io dal mio dispositivo con iOS 8 sto per esempio scrivendo una mail e successivamente mentre la sto scrivendo mentre non l'ho ancora finita sento il bisogno di passare al computer nel dock nella barra in basso si creerà in automatico una nuova icona che sarà l'icona della mail che stavo scrivendo dal dispositivo e la potrò continuare direttamente da dove l'ho lasciata dal Mac quindi continuità questo si chiama handoff e potremo appunto attivarlo o disattivarlo inoltre ci sarà anche Suggested Apps Suggested Apps è un'altra nuova funzione di iOS 8 che ci propone le applicazioni ufficiali dei negozi, dei luoghi di interesse vicino a noi per esempio a me una volta è capitato di essere vicino a una fermata ATM e nella lock screen in basso a sinistra mi era comparso il pulsantino di download dell'applicazione ufficiale ATM e anche qui appunto come vedete potremmo disattivare o attivare questa opzione in questo caso io disattivo Suggested Apps perché non mi piace tanto che il dispositivo usi la localizzazione per propormi nuove applicazioni ma torniamo ancora nelle impostazioni e andiamo nella sezione posta, contatti e calendari perché c'è questa nuova label opzioni scorrimento come saprete in iOS 8 è possibile attivare delle azioni facendo uno scorrimento su una mail è possibile cancellarla, segnalarla come letta o non letta e ora potremo personalizzare le azioni da assegnare a uno swipe per esempio abbiamo Scorri verso destra possiamo attivare Nessuna segnala come letto oppure contrassegna e poi abbiamo Scorri verso destra potremo attivare come prima Nessuno segnala come letto, contrassegna oppure archivia e guardate un po' ora che ho applicato i cambiamenti faccio uno scorrimento verso destra ed ecco che posso archiviarlo faccio uno scorrimento verso sinistra e ecco che compare il menu rapido torniamo nelle impostazioni andiamo in generali ricerca Spotlight perché come vedete è stata aggiunta una nuova voce risultati web di Bing adesso il motore di ricerca predefinito di Spotlight è Bing a me non piace tantissimo questa cosa infatti grazie a Dio si può disattivare da queste opzioni però comunque sappiate che Bing è il nuovo motore di ricerca predefinito di Spotlight andando inoltre su impostazioni privacy abbiamo questa nuova voce dei dati abitazione che prima si chiamavano HomeKit praticamente sarebbe la domotica in futuro se usciranno applicazioni per la casa che si interfacciano con qualche apparecchio che abbiamo in casa andranno a finire in quella sezione di privacy dati abitazione inoltre come vedete nel menu del multitasking i contatti in alto la grafica dei contatti recenti in alto è stata leggermente cambiata ora il nome è scritto in bianco le iniziali dentro al cerchietto e inoltre dentro l'applicazione contatti abbiamo una novità se avremo un contatto con un'immagine e toccheremo l'immagine si amplierà a schermo intero però questo ha portato a dei bug all'interno dell'applicazione contatti infatti mi ha praticamente mescolato tutte le foto e non ne azzecca una quindi speriamo che nelle prossime beta risolvano questo bug nei contatti vediamo ora la prossima novità riguardante la dettatura vocale ciao a tutti sto provando il nuovo sistema di dettatura vocale di ios 8 beta 4 che come vedete scrive le parole in tempo reale mentre le sto dettando funziona molto bene come vedete abbiamo questo nuovo sistema molto intelligente che scrive in tempo reale quello che dettiamo e non come prima che prima ascoltava tutto poi inviava il pacchetto audio al server e scriveva tutto in un botto così possiamo anche renderci conto degli errori in tempo reale quindi ragazzi questa era ios 8 beta 4 più o meno vi ho rassunto tutte le novità più importanti a voi piace? ma prima di chiedervi questo giudizio vi voglio dare un'ultima informazione la stabilità finalmente è stata migliorata adesso nonostante si veda che sia ancora una beta è diventato un firmware utilizzabile magari ecco non consiglierei ancora l'installazione su un dispositivo primario infatti io la tengo sul mio ipod touch però devo riconoscere che finalmente in questa beta 4 apple ha migliorato di molto la stabilità soprattutto con safari quindi ragazzi io spero che questo breve video sulle migliori novità di ios 8 beta 4 vi sia piaciuto se è così mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su che per me è molto importante inoltre vi ricordo di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa novità scrivetemi qual è la vostra preferita o magari cosa avreste cambiato voi rispetto alla beta 3 insomma commentate fatemi sapere la vostra opinione inoltre vi ricordo di iscrivervi al mio secondo canale dove caricherò recensioni di tweak di Cydia e vlog occasionali vi lascio il link in descrizione vi ricordo inoltre di seguirmi su twitter e su facebook per restare sempre aggiornati sulle novità del canale e in generale sulle ultime novità del mondo della tecnologia se volete aiutarmi a crescere mi raccomando condividete questo video il più possibile su internet soprattutto ragazzi la cosa più importante di tutte iscrivetevi al mio canale un grande saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti